Allora facciamo una cosa, noi vogliamo fare un giochino adesso, chiamiamo una persona a caso, vediamo un po', forse il direttore dell'Istituto Santa Maria, Giovanni Piccardo, mi può raggiungere? Eh sì, è obbligato, oh prego. Adesso facciamo una cosa, le facciamo ascoltare un brano, ok? E lei mi deve indominare il brano. Senti l'uomo e tu come una sposa. Fincela. È o non è? Daniele si nasce, sì o no? Sì, certo che sì. Avicca, io dico una cosa. Grazie. So dieci anni che mi conosci, manco mi ricordo, ma è possibile. Ma guardate. Ma guarda un po'. Grandi! Meraviglioso? È uguale, eh? Vabbè, partiamo di nuovo con la base, grazie. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospeso, sono un asso a ufficio nuvolare rosa. Io come un gentil'uomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra, si alza in volo soltanto la polpa, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono un tutto per voi accorgersi. E niente. Un applauso a Gianni Piccardo! I migliori anni della nostra vita! E stiamo passando al Santa Maria! E' uno scherzo, eh! Vai! Ma quando entro a scuola così sembro!